Era il 6 aprile 2019, dopo mesi di isolamento la statale 27 di Portofino veniva percorsa da una folla di persone. Una festa aperta dalla benedizione impartita dal vescovo diocesano, la fine di un momento difficile per una zona fortemente colpita dalla mareggiata del 2018, della quale la strada martoriata dalla violenza delle onde era diventata un'immagine simbolo. A distanza di un anno i sindaci di Santa Margherita Ligure e Portofino sono tornati a percorrere la litoranea. Non è stato possibile riproporre la festa per l'emergenza sanitaria in atto, ma il gesto è stato comunque ricco di significati. Abbiamo a rifare questa passeggiata purtroppo in solitudine, portiamo con noi a testimonianza però dell'evento dello scorso anno una bambina, una bambina che rappresenta tutti i bambini di Santa Margherita e Portofino, che è figlia di un medico che è in prima linea alla San Martino di Genova, reparto Covid, quindi è anche significativamente un elemento di congiunzione dall'anno scorso a quest'anno e siamo contenti che questa splendida giornata di sole illumini questo sentiero ricostituito e siamo convinti che come le nostre comunità lo scorso anno hanno saputo reagire, hanno saputo superare la crisi, così avverrà anche quest'anno. La testimonianza che si è voluto dare alla comunità locale e anche al mondo intero è quella che con la forza di volontà e con l'aiuto di tutti sono possibili scenari di rinascita e di ripresa, un grande messaggio di speranza. L'anno scorso eravamo qua a ringraziare le aziende che avevano lavorato sulla strada, quest'anno siamo qua a ringraziare i medici per il lavoro che stanno facendo per cercare di salvare il più possibile le dupesive. Grazie. 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 Grazie.